La linea vita temporanea è regolata dalla normativa CEN 795 ed è utilizzata per mettere in sicurezza tutti quei percorsi che vengono frequentati dagli operatori per manutenzioni periodiche di non eccessiva frequenza, facile da installare e rimovibile non appena terminato il lavoro. Grazie ad un tenditore a cricchetto è possibile regolarne la lunghezza fino ad un massimo di 18 metri, utilizzabile nel montaggio dei ponteggi tubolari ove il sistema anticaduta debba essere spostato al piano superiore non appena installati i parapetti al piano inferiore. La linea vita temporanea viene utilizzata fissando le due asole posizionate all'estremità della cinghia agli appositi ancoraggi della struttura. Cinghia in poliestere, due asole di collegamento rinforzate, cricchetto tensionatore, contenuta in una sacca in PVC resistente, impermeabile ed antiscivolo.